Il Giappone, dal punto di vista del consumo biologico, è un mercato che, sebbene con piccole percentuali, è sempre in costante crescita. Consigliato che la classe media giapponese è comunque una classe che ha un buon reddito, tendenzialmente si avvicina, si sa approcciare al consumo del prodotto biologico. Noi attiviamo una serie di campagne di promozione nei punti vendita, in cui appunto approcciamo il consumatore per fargli da un lato assaggiare il prodotto, ma ancora di più spiegarlo. E quindi spiegarlo con quelle che sono le sue caratteristiche e qualità intrinseche che nascono dal metodo dell'agricoltura biologica.